Il sindaco di Atri, Pier Giorgio Ferretti, punta all'istituzione di un nuovo indirizzo professionale in studi in servizi culturali dello spettacolo, un'idea volta ad ampliare l'offerta formativa dell'Istituto Atriano Zoli. Un percorso in grado di formare figure professionali da impiegare nel mondo del cinema a seguito della conclusione del percorso quinquennale, un'idea che il sindaco Atriano ha proposto all'amministrazione provinciale chiedendo inoltre al presidente D'Angelo di portare avanti una mediazione con la regione per l'istituzione di questo nuovo indirizzo. Sì, è un istituto professionale, operatore del cinema, della cultura e dello spettacolo, è nato qualche anno fa, si addice nell'ambito del quadro degli istituti professionali, si addice pienamente alla nostra città che tra le province di Teramo e Pescara è l'unica comunque a conservare un teatro ottocentesco e un indirizzo importante, come mi è venuto in mente? Devo dire mi è venuto in mente proprio in occasione della presentazione da parte della regione Abruzzo di Abruzzo Cine Festival, perché proprio in quell'occasione fu lo stesso presidente della regione Marco Marsiglio a dire che ci sarebbe stata esigenza di questi operatori e da lì l'idea che poi ho discusso sia con i tecnici, con l'ufficio scolastico regionale, con il direttore, con l'ufficio scolastico provinciale dove ho trovato delle sostanziali adesioni di fronte ad una situazione in cui solitamente i nuovi indirizzi, gli uffici sono sempre resti. L'attivazione di questo nuovo indirizzo di studi per il sindaco Ferretti si coniuga perfettamente con la vocazione artistica e culturale del territorio, considerando anche che la città di Atri ospita l'unico teatro storico dell'Ottocento esistente nella provincia di Teramo e Pescara. C'è stata la piena adesione della politica, finora da parte della provincia, ma abbiamo motivo di credere che ci sarà poi anche da parte della regione e che quindi i ragazzi, non solo di questo comprensorio, ma anche di un comprensorio più ampio che già aderisce ad Atri, anche e soprattutto della provincia di Pescara e della costa Teramana, possa trovare questa nuova offerta importante, offerta formativa, con importanti opportunità e sbocchi lavorativi.